Nessun problema, tutto perfetto, tutto funziona. Si guardi un po' attorno insomma, no? Si guardi un po' attorno, comunque siamo così. Rozzol Melara sarebbe dovuto essere, nell'idea degli architetti che lo concepirono, un progetto avenieristico, un modo nuovo di abitare la città, una sorta di villaggio indipendente fornito di tutti i bisogni primari, dai negozi alle scuole. Negli anni invece il quadrilatero, in cui abitano circa 1500 persone, è diventato il simbolo del degrado e dell'incuria. Ora il quartiere, seppur a fatica, si sta rialzando, anche se rimangono delle criticità difficili da risolvere in un complesso ater che ospita così tante persone. Io a Melara sono cresciuto, all'epoca erano i tossici, queste cose qui, ma comunque sono qua da tre anni che abito e i problemi non ne vedono, non ne risultano. C'è scarsa sorveglianza, che di fatti di notte si gira gente, magari anche venuta di fuori, e cominciano per tutto. Un poco più di sorveglianza, non sarebbe mai. Secondo me sono troppi cani e i padroni non puliscono mai, è uno dei problemi principali, penso. Anche nella parte interna? Sì, esattamente. La parte del degrado è tutto, però la gente che butta le immondizie giù dalle terrazze, non si può andare nei parchi giochi che abbiamo dentro nel comprensorio. Io vivo bene qua, i miei figli anche. È migliorata, tranne questa roba qua delle pulizie, perché naturalmente la struttura comporta anche questo, però c'è molta gente maleducata. Se fossi, non so, invalido cosa, per esempio attraversamenti per andare in garage, i garage che non sono coraggibili, perché la storia è avanti da mesi, forse un anno, no? Ma comunque, insomma, si può sopravvivere. Grazie. 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 Grazie.